Musica Chi di voi ha le prese con la propria casa non ha dovuto fare i conti con gli infissi? Beh, qui c'è la soluzione al vostro problema. Non ci credete? Venite con me! Ci troviamo ad Arte Infissi. Pensate che questa azienda nacque nel 1967. Ben 40 anni di passione, esperienza e professionalità. Ma chi meglio del fondatore può parlarci di questa falegnameria? Fabrichiamo da sempre ceramenti in legno. Fin dall'inizio il nostro obiettivo primario è stato quello di migliorare il prodotto. Oggi possiamo dire di aver raggiunto un buon livello qualitativo. Questo lo abbiamo ottenuto con una buona progettazione, selezionando le materie prime, utilizzando attrezzature di alto spessore tecnologico e seguendo tutte le fasi di lavorazione fino al collardo del ceramento finito. Siamo in grado di fornire una vasta gamma di prodotti su misura, per tutte le esigenze, dal prodotto semplice a quello speciale e particolare, come finastra d'arco, oblò e scorrevole. Per questo tipo di lavorazioni utilizziamo un'attrezzatura all'avanguardia e completamente automatica. Tutti i nostri prodotti sono corredati da certificazioni di tenuta all'acqua, all'aria e al vento. Non trascorriamo nemmeno la salvaguardia dell'ambiente. Per questo utilizziamo esclusivamente vernici ecologiche idrosolubili. D'arte infissi preventivi sono gratuiti. E se siete curiosi o volete informarvi meglio, andate a cliccare sul sito. Vi ricordo che a D'arte infissi si trova tra Meldola e San Colombano, in via strada del mezzo 19.